Il parco dei divertimenti o Luna Park, come più mi piace chiamarlo, offre sempre uno spettacolo attraente, non solo per i bimbi ma anche per gli adulti. Questo di Bucharest, per un'antica costumanza, viene ogni anno inaugurato dal suo bravo. Ecco infatti, Re Carol ed il principe ereditario che continuano la tradizione. Grazie a tutti.